È stata una domenica impegnativa ma ricca di entusiasmo e di emozioni quella di Cuore Amico che nel suo viaggio itinerante per la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà ha raggiunto diversi comuni della provincia di Lecce. Dopo le tappe di Galatina, Carpignano, Salentino, Zollino e Calimera è stata la volta di Sogliano, Cavour e Galatone dove Cuore Amico da 20 anni, braccio operativo di Telerama per il sociale, ha fatto tappa nelle parrocchie e ha consegnato genere alimentari che serviranno ad aiutare tante famiglie in gravi difficoltà economiche con problemi che l'emergenza Covid ha aggravato. A Sogliano, Cavour, Cuore Amico è arrivato nella parrocchia San Lorenzo incontrando il parroco Don Salvatore Gemma, fidando a lui, alla Caritas, alla Protezione Civile, alla Proloco i generi alimentari, aiuti necessari da condividere con la comunità che ne ha più bisogno. Sono state tante le persone che hanno donato, hanno donato cose come avete fatto anche voi questo pomeriggio e quindi se da una parte la pandemia ha rinchiuso le persone un po' nelle case dal punto di vista della solidarietà invece c'è stata un'apertura totale. A Galatone tappa nella chiesa del Sacro Cuore dove ad aspettare Cuore Amico c'era il parroco Don Francesco Tarantino. Sono emerse tante nuove povertà, la comunità ci ha molto sostenuti e grazie a voi a Cuore Amico per la possibilità che ci offre di poter raggiungere ancora le nostre famiglie per aiutarle e sostentarle. E ringraziamo il Signore. È stata poi la volta della Chiesa dei Santi Medici. Qui i generi alimentari sono stati consegnati al parroco Don Massimo Mancino. Sono nate anche nuove povertà, nuove emergenze e grazie a Dio la Caritas Giussana, le associazioni come Cuore Amico hanno aiutato e stanno aiutando queste persone che hanno bisogno. Vi ringraziamo tanto per questi doni, per tutto questo ben di Dio che può aiutare tante famiglie. E infine l'ultima tappa nel convento della Madonna della Grazia da padre Milco Gigante e padre Tercisio De Pascalis. Un tempo sicuramente che ci ha colti di sorpresa, ma un tempo anche che ci ha messo davanti a delle responsabilità e soprattutto a quell'attenzione quotidiana che ciascuno di noi è chiamato ad avere nei confronti dell'altro. Sicuramente questo tempo di pandemia ha portato, ha messo fuori, ha tirato fuori tante altre povertà. Povertà che adesso dobbiamo imparare ad accogliere e soprattutto a condividere. Ma già la definizione sta proprio nel cuore amico. Portiamo il cuore nostro a tanta gente, a tanti fratelli e sorelle che hanno bisogno, soprattutto in questo momento, in questo periodo di pandemia, che davvero ci ha resi un pochettino, proprio ci ha richiamati alla riflessione per quello che sta succedendo. Noi ci auguriamo davvero di essere cuore amico di tutti, di tutti quanti. In ogni tappa tante emozioni e preghiere perché questa emergenza finisca presto, ma anche i gesti concreti per aiutare chi ha bisogno perché nessuno deve rimanere indietro. In nome della trasparenza e della concretezza che caratterizza il suo operato, cuore amico rende conto i salentini di ogni passo che compie. C'è ancora tanto da fare e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Per contribuire alla raccolta alimentare si può usare il conto corrente 800 della Banca Popolare Pugliese o effettuare un versamento usando l'Iban in sovrimpressione. Con la causale emergenza coronavirus, aiuto, famiglia e distribuzione alimentare, per informazioni e richieste, è attivo il numero 350 04 10 751.